Il figlio di asilo, signore Pigliatello, cavaliere della croce, ascoltate la sua voce, per i vostri grandormenti ascoltate i suoi lamenti, per la tua somma potenza, dacci un segno di clemenza. Mamma, 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 mamma. Brigadier, noi vicino teniamo un buon ricovero, non facciamo moca per un puntiglio. Se vi mettete paura ve ne potete andare, è peccato lasciare il morto solo, o morto sorveglio io. Noi andiamo, noi andiamo. No, quanto è bello, bello, questo pure lo devi imparare, questa è una novità, è molto che i pantaloni. Mamma, mamma, io mi devo prendere i ricoveri, c'è di callata, andate arrivano stesse. Sì, sì, arriva lo stesso, sì. Qui, qui è morto, mu. Sientami, susati, alzati, va, andiamoci, non ricopere tutto qua. Ok, è brutto lo fatto, lo so. Qua è pericoloso. Ah no, è piccola, è piccola, è piccola. Questi sono gli apparecchi, qui. Sono gli apparecchi che si avvicinano. È piccola, capito? Lascia. E queste sono fortezze volanti. S, sento, sì, sì. Ah, saluta. Saluta. Questa è la contraerea. La contraerea che funziona. E' bomba, e' bim. E' bim. E' bim. E' così che è un'ambulma, c'è un'ambulma, c'è un'ambulma fresca. Queste non sono case. E questo spugliatello da qui? E' lo lì. Ah. Ah. Ah, sì. Sì, 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 sì. Eh, l'abbiamo depositato, eh. Questo è stato... Stiamo affrontando. Si credo sia molto vero, eh. Vieni. E come ha morto in buono, non ti fanno impressione, eh. Sì, è morto capodosto. Sousate. Sousate, hai capito? Sousate che è meglio per te. Sousate. Eh, lo sopevi, eh. Un drabbando, eh. Sa che faria. Passa. Eh, stai stando pure il patano. Guardate qui. Guardate qui. Guardate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Ah. Eh, freddo, eh. Se lo va. Eh, eh. Eh, eh. bravo 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 veramente bravo e tu non sei morto lo stagio bene sono sicuro sotto l'ietto di nuovo contrabbando non ti arresto è sacrilegio tu qua non porto ma è più sacrilegio a mettere in mano un gol a uno vivo come a te non ti arresto ma la mamma sull'isfazione che ti muovere e non faccio mancare la perquisizione se ti muovo non ti arresto parola di nuovo e non faccio mancare la perquisizione parola di nuovo e allora se mi arrestate siete una carogna la parola è uno non d'arresto ma ricordate che io non so fisso ma io nemmeno brigadino l'unico a